Nel cuore del late mile di detroit si trova mio figlio, lo smilzo Salve, come va? Bene, come posso aiutarla? Ma che c***o? Ho letto sul vostro cartello che potete concedermi cartelli gratis per 30 giorni Se lei è un magazzino, paga solo un dollaro a interessi zero E allora? Vorrei riscattare mia nonna Vuoi fare un giro? Provaci, perché no? Come va? Bene, lei? Bene, che cos'è? Un pezzo di mio fratello, ora me ne voglio disfare e farci un po' di soldi Ma io non conosco una lavatrice Dennis, mi serve il tuo aiuto Signori, come va? La grande Vedatemi mia nonna o distruggo questo c***o di posto Mi farebbe un favore? Sì Lo manda al tappeto? Sì Salve Salve Buongiorno Arrivederci Hai preso la borsa? Il vincitore della sesta edizione di Masterchef Italia È... È... L'angolo rotture della Lidl L'angolo rotture della Lidl